bentornati ad un nuovo episodio di gong come sempre episodio bipartito per concentrarci su due fatti di attualità videoludica partiamo oggi con l'arrivo ufficiale anche in europa e quindi anche qua da noi in italia di playstation stars il programma di fidelizzazione di sony e playstation di cui in realtà vi avevamo già parlato un paio di episodi sì forse la prima volta quando si era innescata anche la chiacchiera sul fatto se queste ricompense digitali fossero o meno degli nft la seconda volta invece un'altra piccola e giustificata shitstorm per il fatto che il livello 4 in giappone ma abbiamo scoperto che così anche in italia da accesso a una priorità per insomma il supporto l'assistenza clienti non vogliamo rientrare in argomento ma vogliamo invece raccontarvi un pochino quella che è la nostra impressione dopo un brevissimo utilizzo di questa nuova funzionalità di questo programma impressione diciamo un pochino così altalenante anche per quella che è l'esperienza utente e in realtà abbiamo scoperto anche la scarsa integrazione proprio con la console sì la cosa secondo me davvero surreale è che questo servizio che appunto come dicevi tu francesco arriva oggi in europa ma che è stato lanciato nelle scorse settimane prima in giappone in asia e poi in america ci ha messo così tanto quindi anche ad arrivare con di fatto un lancio dilazionato nel tempo salvo poi arrivare in una maniera estremamente io direi un po' incompleta nel senso che è vincolato ad un'app quindi devi partire per forza dall'app playstation non un'app dedicata no no dentro l'app playstation e anche attraverso il sito ufficiale playstation di fatto puoi leggere informazioni riguardo a questo tipo di programma fedeltà ma non puoi interagirci davvero ti rimanda proprio all'idea di scarica l'app e prova all'interno della playstation e idem per quanto riguarda un'integrazione con i menu della console è una scelta secondo me molto discutibile mi aspettavo che questo programma fedeltà che ha come diciamo via base quella di creare dei modelli 3d collezionabili come fossero dei trofei plus sostanzialmente come idea che vengono sbloccati sulla base di una serie di missioni che devi sostanzialmente fare che possono riguardare avvia un gioco a caso oppure fai una cosa dentro un titolo specifico o ancora comprati un videogioco full price sul playstation network e che poi possono anche arrivare a dare dei dei bonus con dei premi che si possono riscattare e convertire in sconti per il playstation network veri ecco mi aspettavo che però tutta questa cosa che di base ti regala appunto dei modelli poligonali che tu tieni associati al tuo profilo fosse profondamente integrata con l'interfaccia utente della console con la user experience con l'idea magari di avere una stanza 3d in cui ruotare questi modelli vederli muovere avere degli effetti speciali un po sul modello di quello che succede nel museo di astros playroom per intenderci cioè credevo che si partisse proprio da una cosa di quel tipo ti dico la verità anch'io mi ero immaginato un'integrazione molto forte con la console e anch'io non mi spiego come mai non siano partiti da lì premettiamo che hanno già dichiarato la volontà di arrivarci però diciamo che insomma limitare l'esperienza utente all'app durante il lancio secondo me anche per l'avvio del servizio comunque sia non è il piede giusto cioè il punto è che secondo me se devi partire fare una cosa del genere mostrami quanto è carino avere il t-rex della demo disc della prima playstation associata al mio profilo mentre sto navigando i menu e in qualche maniera tangibile anche voglio dire nella gloria di una tv 4k eccetera eccetera è una cosa da un centimetro per due su uno smartphone veramente sembra una ricompensa molto mera molto buttata lì perde perde abbastanza di senso in ogni caso entrando un pochino anche più nel dettaglio proprio di come funziona questo questo sistema di fidelizzazione diciamo che è un sistema tripartito da una parte c'è proprio il quattro tier che tu puoi guadagnare che insomma salgono sulla base dell'ottenimento di trofei rari ma attenzione questi trofei non sono i trofei dei videogiochi sono esattamente invece quelli che marco citava prima questi digital collectibles ma si sale anche dopo aver acquistato dei giochi cioè per arrivare a livello 4 per esempio bisogna acquistare almeno quattro prodotti full price poi c'è appunto questa serie di campagne così vengono chiamate che sono delle missioncine quelle che insomma sono presenti qua al day one riguardano solo il lancio di determinati prodotti e io devo ammettere anche questa la trovo una tipologia di interazione abbastanza blanda cioè l'idea di connettermi e attivare Tekken 7 perché così prendo il trofeo e poi semplicemente spegnerlo due secondi dopo non mi lascia leggermente limitante estasiato esatto e poi l'ultima cosa è una sorta di come possiamo definirlo pseudo cashback nel senso che gli acquisti che vengono fatti con il profilo ovviamente gli acquisti digitali ricevono un numero di punti variabile a seconda della spesa che poi possono essere utilizzati sia per acquistare altre statuette digitali sia per acquistare una selezione di titoli al momento insomma vengono proposti sekiro edis cult of the lamb e it takes two quindi comunque una selezione una vetrina di grande pregio oppure anche dei crediti proprio playstation da utilizzare appunto negli store quantitativamente se vogliamo fare proprio un'equazione insomma trasformando questi punti in euro è come avere uno sconto del 5 per cento quindi uno sconto estremamente basso però alla fine sempre una cosa in più che una in meno sì diciamo che a livello di offerta commerciale non è certo la roba che ti fa gridare al miracolo che ti spinge a dire ok mi sottoscrivo questo ulteriore servizio non cambi le tue abitudini d'uso per il servizio esatto però al tempo stesso è anche vero è giusto riconoscere che se uno come dicevi tu stamattina in live è solito acquistare videogiochi direttamente in formato digitale perché non farlo visto che comunque accumuli comunque qualcosina da poi rosicchiare per acquisti futuri sì chiudo dicendo che appunto è necessario iscriversi al servizio in realtà semplicemente accettando uno dei classici accordi che di solito si trovano all'inizio di tanti videogame sì diciamo che è tutto legato al profilo che già dovete avere per forza e ultimissima cosa importante da sottolineare non è retroattivo ovviamente cioè se avete fatto delle cose che vi qualificherebbero per ottenere il tal trofeo se non vi siete ancora registrati non non vi viene sbloccato nel momento della registrazione stessa quindi è una cosa che guarda sicuramente più avanti che non che non è indietro nella seconda parte di questo episodio invece ci spostiamo dall'altra parte della barricata diciamo così andiamo in ecosistema microsoft e torniamo a parlare di starfield perché dopo insomma informazioni condivise nel corso dei grandi eventi dell'estate bethesda è tornata a parlare il suo prodotto l'ha fatto con un video realizzato appositamente insomma per interagire un pochino con la community in cui ha risposto proprio ad alcune delle domande che la community ha lasciato in appositi form credo che sia destinato questo video a diventare il primo di una serie come se loro volessero insomma continuare un pochino a fare comunicazione su base regolare sono arrivate quindi alcune informazioni inedite non ci mettono mano sul fuoco ma forse anche qualche sequenza di gameplay che non si era visto in generale guarda ti posso dire una cosa io ho molto apprezzato il taglio di questo contenuto che anche un contenuto si vede pensato per i social network però informativo il giusto capace di secondo me condensare in letteralmente 4 minuti poco più una serie di informazioni che comunque non erano male con todd howard direttamente di fronte alla telecamera intervistato in maniera anche informale negli studi bellissimi tra l'altro di bethesda e ne emergono secondo me tutta una serie di considerazioni in questa intervista sui riferimenti di starfield che è un gioco in sviluppo da tantissimo tempo una nuova ip per bethesda dopo veramente una valanga di anni ma che si capisce le parole di howard in realtà tra le sue origini da veramente lontano cioè dall'epoca degli rpg pen and paper di cui da ragazzino era fan parla addirittura di un gioco che aveva sviluppato per apple 2 in maniera amatoriale per trasporre uno di questi giochi di ruolo in formato digitale insomma ci sono tanti riferimenti a opere del passato anche non particolarmente conosciute che secondo me sono la testimonianza di quanto di fatto appunto sia un progetto che deve ancora vedere la luce ma che per certi versi pesca a piene mani da un immaginario che invece è molto radicato in un certo tipo di fantascienza sì sono d'accordo con te che sia un contenuto piacevole anche perché crea appunto un contesto e non va solo a parlare appunto di elementi di gameplay lo fa ma riesce comunque a dare anche qualche curiosità proprio sulla storia produttiva sulla filosofia con cui i creativi si stanno approcciando allo sviluppo e poi diciamo che è bello parlarne perché secondo me c'è ancora un casino di roba da dire farlo anche in maniera così un po' più continuativo un po' più informale può essere il perfetto completamente invece del momento in cui hai grandi eventi spacchi tutto esatto e comunque poi entra anche nel merito di alcune meccaniche di gioco parla un pochino dei viaggi spaziali e di come hanno gestito insomma anche la necessità di tenere sott'occhio il livello di carburante per non rimanere alla deriva bilanciare un po' quelle che sono anche alcune simulazioni fisiche o l'idea delle stesse e invece poi la praticità del gameplay perché dicevano abbiamo volevamo implementare delle cose che potevano essere realistiche per un certo tipo di hard sci-fi che si basa molto su comunque cose realistiche o plausibili ma poi finiva che non era divertente da giocare e poi parla anche di in realtà narrativa e caratterizzazione dei personaggi comincia focalizzandosi sui tratti dei personaggi perché nel momento in cui creeremo il nostro protagonista dovremo selezionare tre tratti che lo caratterizzano psicologici psicologici proprio come attitudine la cosa interessante secondo me è che ciascuna di queste caratterizzazioni avrà sia degli effetti positivi che degli effetti negativi che i giocatori dovranno portarsi dietro almeno per un po' perché capiterà sempre di imbattersi in delle quest che permetteranno poi di rimuovere diciamo il malus associato a quel tratto caratteriale questa è una cosa che trovo interessante sempre poi invece per quanto riguarda il sistema di dialogo è stato mostrato una sorta di mini game per l'utilizzo delle capacità retoriche della persuasione diciamo così invece che essere semplicemente un'opzione che ti compare fra le varie linee di dialogo entri in una sorta di modalità persuasione in cui devi un attimino bilanciare quello che dici per portare l'interlocutore dalla tua parte e proprio in queste sessioni si vede anche un character design che possiamo dirlo è estremamente convincente sì per quanto riguarda davvero l'aspetto di personaggi molto diversi molto alieni robotici strani mi ha davvero dato delle vibrazioni positivissime con questa questo gusto per la space opera che si intravede proprio suntuoso meno convincenti per essere proprio al 100 per cento onesti secondo me i modelli proprio umani sì tradizionali che fanno un po l'effetto bambolotto però sembra essere uno di quei giochi veramente in grado di incarnare quasi un intero genere e al tempo stesso un po di ridefinirlo cioè perché si respira proprio una profondità una ricchezza che sono davvero invidiabili e l'ultima cosa da citare riguarda proprio la dimensione veramente sconfinata del prodotto stavolta non si sono focalizzati sul numero di pianeti o insomma non ce la fanno però a non buttarla sul quantitativo mi spaventa tantissimo questa cosa sono d'accordo con te anche a me spaventa hanno puntato in dito il dito invece in direzione delle linee di dialogo dicendo che sono più del doppio di quelle che erano presenti in fallout 4 si parlava di 110.000 linee di dialogo in fallout e qui sono più di 250.000 io torno a dire che secondo me non è quella la strada per misurare la qualità di un prodotto e neppure la sua tenuta e un pochino sono spaventato anch'io perché secondo me alle volte diciamo è meglio fermarsi anche perché poi arrivi altrimenti superi un confine e crei una mole di contenuti che magari la maggior parte degli utenti nemmeno incontrerà diventa un pochino forse eccessivo sì rischia di essere davvero più che ricca la cosa stancante se poi non vai mai al dunque ti perdi per strada e come tu hai anche magari creato delle cose che potevi mettere in un dlc in un'espansione particolare eccetera eccetera che rischiano davvero di sparire a fronte di una mole sconfinata che rischia oltretutto aggiungiamolo comunque di far allungare esatto il gioco ancora più tardi vedremo grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di gong torniamo domani con l'attualità videoludica venite a trovarci anche su twitch dove streamiamo tutti i giorni dalle 10 alle 12 hai finito di controllare le gif simpatiche? no è la cacciata del calcetto vai ah il calcetto stiamo organizzando le squadre vai va bene tu sei in porta che fai? ok tu fai il boomer qual è il tuo ruolo? vai 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 Grazie a tutti.